Grande successo alla Rotonda Diaz per la 21esima edizione del Summer Basket, la manifestazione organizzata dalla Wisp Napoli che ha portato nel fine settimana sui dieci campetti allestiti sul lungomare, alla presenza del sindaco De Magistris, più di 800 ragazzi e ragazze di tutte le età. Un pomeriggio di basket con tre big in campo, il grande Nembo Kid Antonello Riva, testimonial dell'edizione 2015, i padrini storici dell'evento, gli ex napoletani Massimo Sbaragli e Giovanni Dallalibera, oltre alla presenza del grande presidente del Napoli Basket degli anni Ottanta, Nicola De Piano. Summer Basket è il primo circuito estivo di pallacanestro 3 contro 3 che grazie alla sua particolare formula fa sì che ogni anno il basket sia giocato gratuitamente nelle piazze, sui lungomari e nei centri storici delle città. E grazie soprattutto ai tantissimi giovani, più piccoli e meno piccoli, giovani e meno giovani che renderanno questa giornata di sport straordinaria. Quindi buon Summer Basket a tutti, grazie ai campioni presenti ed è veramente bello vedere che la nostra città è sempre più piena di iniziative sportive. Grazie e viva il basket!